Una notizia bomba ha scosso Milano questa sera, lasciando i tifosi milanisti in uno stato di riflessione. Siamo tornati con un altro aggiornamento bomba su un'opportunità mancata nel mercato dei trasferimenti che potrebbe causare rimpianti dietro le quinte del club. Prima di addentrarci in questo elettrizzante argomento, lo sapete già, vero? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Quello che abbiamo oggi susciterà le emozioni di tutti gli amanti del Milan. È successo qualcosa di grosso sul mercato e quello che succederà potrebbe cambiare il futuro della squadra. In estate il Milan ha tentato diverse strade per ingaggiare l'attaccante colombiano John Duran. Ma tutti i suoi sforzi sono stati respinti. L'attenzione per l'ingaggio di un attaccante era prioritaria. E mentre Alvaro Morata e Tammy Abram erano le scelte finali, la domanda rimane. Che ne sarà dei giocatori mancati? Tra questi, Duran era uno dei grandi obiettivi. Il Milan ha fatto diversi tentativi, ma non è riuscito a convincere l'Aston Villa a venderlo. E ora, quella che era un'occasione d'oro sembra essere molto lontana. Duran ha brillato per l'Aston Villa, segnando sette gol in dodici partite, molti dei quali dalla panchina. Ora il suo valore di mercato è salito alle stelle, raggiungendo l'impressionante cifra di 90 milioni di euro. Una differenza gigantesca rispetto ai 20 milioni di euro che il Milan era disposto a pagare in estate. Con questo aumento vertiginoso del valore. I rossoneri potrebbero pentirsi di non aver insistito di più per ingaggiare l'attaccante ventenne. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate. Il Milan avrebbe dovuto fare uno sforzo maggiore per assicurarsi John Duran in estate. Pensate che questa occasione mancata possa avere un impatto sul futuro dell'attacco della squadra? Lasciate un commento qui sotto. Condividete il video con altri tifosi del Milan e restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti. Sul futuro del mercato dei trasferimenti e sul nostro amato diavolo.